Per consentire il normale svolgimento delle lezioni scolastiche senza ulteriori interruzioni, il 3 e 4 ottobre prossimi le lezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pordenone si terranno nelle palestre cittadine invece che nelle aule delle scuole. Chi non potrà recarsi ai seggi perché in trattamento domiciliare per Covid-19 potrà votare a casa propria presentando entro il 28 settembre la domanda alla mail elettorale chiocciolacomune.pordenone.it. Tutte le informazioni e l'elenco dei nuovi seggi sono reperibili alla pagina web comune.pordenone.it.